Nonostante non ci siano aumenti notevoli rispetto a ciò che riguarda i contagi da Covid-19, in città e in provincia si contano ancora due decessi, sono due pazienti, uno di San Cataldo e uno di Gela. Intanto sono 249 i pazienti positivi registrati nelle ultime 24 ore, 60 sono di Caltanissetta, 50 sono di Gela, ancora come si diceva non ci sono modifiche sostanziali rispetto ai giorni precedenti. Per ciò che riguarda invece i ricoveri siamo sempre in diminuzione, infatti sono 38 i ricoverati in malattie infettive e nessun ricoverato in terapia intensiva. Sono 2800 in tutti i pazienti positivi in provincia, 600 sono a Caltanissetta, in quarantena domiciliare soltanto 7 ricoverati e anche si abbassano i numeri di Gela, sono 827 i positivi in quarantena domiciliare, 11 sono i ricoverati.